hai detto che siamo stati creati o fabbricati a quale scopo esattamente allora siccome la bibbia soprattutto la genesi come dicono i rabbini non è un libro originale scritto dagli autori ebrei ma è in sostanza la coppia rielaborata dei testi scritti dai sumeri lì c'è scritto chiaramente ma è ripreso anche dalla bibbia che noi siamo stati fabbricati diciamo così per lavorare per loro cioè loro lavoravano lavoravano molto duramente soprattutto nella gerarchia abbiamo detto prima che anche gli Elohim avevano un capo e c'era una gerarchia quelli che appartenevano alla classe più bassa di questa gerarchia lavoravano e lavoravano in particolare nelle miniere ad un certo punto hanno deciso di fabbricare qualcuno che lavorasse per loro e uno di loro che si chiama Enki che è uno dei due figli del grande capo e il grande capo si chiamava Anu che ha lo stesso che ha nella lingua sumerica lo stesso significato di Elion nella lingua ebraica cioè quello che sta sopra cioè il capo e uno dei due figli ha detto ma se noi vogliamo c'è già qui sulla terra qualcuno che può lavorare per noi è sufficiente che noi gli mettiamo dentro qualcosa di nostro cioè quindi hanno messo dentro una parte del loro materiale genetico che nella bibbia è chiamato Selem difatti la bibbia dice la Genesi che noi siamo stati fatti con lo Selem degli Elohim e Selem significa ciò che contiene l'immagine ora noi sappiamo che ciò che contiene la nostra immagine è il DNA e Selem è un termine che che deriva dal verbo Salam che significa tagliare fuori cut out cut off cioè noi siamo stati fatti dice la bibbia con lo Selem degli Elohim cioè con quel qualcosa che contiene l'immagine l'impronta degli Elohim e che è stato tagliato fuori cioè quindi è stato preso e messo dentro quello che noi conosciamo come o l'uomo erectus o l'uomo habilis e ne è nato l'uomo sapiens